La gestione degli impianti termici e il risparmio energetico saranno al centro di un importante appuntamento previsto il 10 ottobre presso la Certosa di San Lorenzo a Padula nella Sala San Severino dalle 16.30. Un incontro di formazione e coordinamento sull'applicazione della normativa in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici e privati situati nei territori dei comuni della provincia di Salerno con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti. L'incontro rientra in una serie di appuntamenti organizzati sul territorio provinciale per promuovere e condividere le attività che la provincia di Salerno, in collaborazione con la sua società in house, Arechi Multiservice, svolge sui territori di competenza. In una nota l'ente provincia precisa che è evidente che il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti interessati è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi che la vigente normativa impone di inserire nell'agenda di ciascuno. Un'azione coordinata e condivisa degli attori che a diverso titolo sono coinvolti, scrivono dalla provincia, può contribuire in maniera decisiva ad evitare che una cattiva o mancata gestione degli impianti termici infici il necessario risparmio energetico, il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e la sicurezza pubblica e privata. Dopo i saluti del sindaco di Padula, Michela Cimino, l'incontro del 10 ottobre vedrà gli interventi di Domenico Ranesi, dirigente settore ambiente, provincia di Salerno, di Lorena della Monica, responsabile servizio verifiche e impianti termici, Arechi Multiservice, di Giovanni Guzzo, vicepresidente della provincia di Salerno e di Giovanni De Simone, consigliere delegato all'ambiente della provincia di Salerno.